Io sono Vitalania, benvenuti a questo nuovo video, è vero, a questo nuovo format, le scenette, dove pescherò dei bigliettini e metterò e farò delle scenette con quella parola che sono dei bigliettini. Molto, non so molto pregare per le cose, ma basta sa che cominciamo subito, ma prima, la sigla. Ecco qui i biglietti, cominciamo la prima scenetta, perché è il primo biglietto per la scenetta. Neve, la prima scenetta. Adesso la... Mamma, posso giocare con... con la neve? Mi chiedo. Mi prego, mamma. Posso giocare con la neve? Mi chiedo. La seconda, e l'ultima setta. Sole. Che bella giornata di sole. Ah, che bella, eh, ah, dai, vieni, amore. Non vuole venire. Vabbè, c'era la prima volta. Non lo so, non so cosa dire. Bene, il video finisce qui. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al mio canale. Ma prima di sfruttarvi, se volete vita a Ghina, solidete, perché avete una vita sola. Ciao, alla prossima. Anche questa volta non viene.